Ragazzi, se volete altri video di Scribble su Minecraft, superiamo i 10.000 mi piace E nei commenti diteci delle parole che potremmo aggiungere come tema Non lo so, tipo tutti i mob di Minecraft Scrivetele qua sotto nei commenti Burnoni, oggi facciamo Scribble su Minecraft sul mio server Insieme ai miei piccoli amici Loco, Buddy e Nico Ciao, 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 ciao Se volete giocare anche voi ragazzi, in questo server aprirà a brevissimo Questa sarà la prima modalità che vi spoilererò Uh, ragazzi, 12 round, 3 round a testa, ho veramente ansia Il primo per adesso è Loco, eh Ok, Loco sta disegnando Ragazzi, Loco è là in alto, guardatelo Ma come è impossibile, come faccio? Ma come è impossibile? Che parola ti usci? È difficile la parola che ti... Sette lettere Secondo me sapete cos'è? Cactus No, cactus, no È complicato Serpente Ma mi dici se il colore verde è giusto almeno, Loco È verde, 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 giusto Ma che cosa è? Ma cos'è? Aspetta, albero No Ma cos'è con due? Ma cos'è? Ha degli occhi Lo so Aspettate, fa Boom Sì, no, Nico, sei uno schifo Perché l'ho schifo Impari a sbagliare Giusto così Oh, Nico Ciao Nico, salutami Nico Nico, salutami Ciao Nico Ciao Ciao Mi vedi? Ti sto scelta Bravo, bravo, saluta Nico Allora Allora, aspetta Così Così Ma come faccio? Oh mio Dio È facile Dacci qualche inizio Mentre costruirsi Mentre fare cose Disegno E allora È blu Contestualizziamo No, no, non è blu Quello è lo sfondo Che è molto importante Lo sfondo Non so se lo sai Ma non mi cambia colore Dai Nico, veloce Svegliati Non è ancora inizio Ok Allora Dicevamo, dicevamo Eccoci qua Eccoci qua Ma che è? Fate finta che sia una linea continua Perché è continua Ok, sì Beh, lo sappiamo anche su E qua c'è Quanto sono forte Quanto sono forte Ma cos'è? Ma aspetta Volevo spiegare Qua c'è un cerchio E non so se Praticamente tu hai una maglietta Verde ovviamente Questa è una maglietta Loco aiutami Loco aiutaci Questa è una maglietta Eh, raga È facile, è facile Allora Questa maglietta però Ha un problema Ma perché ha sporca di Nutella Ok Ma cosa vuol dire questa cosa? Eh, se Se hai la maglietta Sporca di Nutella La metti Ma dai Ma stai scherzando Ma davvero? Sì Dai, ma ho fatto quattro punti Dai Ah, giusto così No, veramente Ma perché se sono sempre l'ultimo Io a disegnare? No, raga Fermi tutti Ok, cosa c'è? Cosa c'è, Bazzi? Cosa c'è? Eh, no, è un problema Un problema serio Perché Dov'è il colore che mi... Ok È una mucca Mucca Che cos'è? Un... Oh, ho capito, ho capito, ho capito Dai, come? No! No, Locco! No, Locco! Ma basta! Dai che quel video dura poco! Facciamo durarmi in otto minuti Per cortesia Ma cosa è loco? È facilissimo Sulla contestualizza, aiutaci No, no, no No, è facile, raga No No, baddi quasi Ok No, ho sbagliato Nosa è Trebo? Aiuto Ma come cos'è Trebo? Dai, Nico Ce la puoi fare Nico, sei bene? No Tre? No Ah, è il Trebo Ma dai, ma non dovete dirlo Che è già il primo in classifica Lo senti, indovina Mucca e non indovina Treno Cioè Io non ho parola Questa è la fortuna La mente Ma questo è difficilissimo, è impossibile Com'è che si fa? Pizza Eh, magari Cos'è? Eh, mouse Oh, è verde, bello il verde Sì, è verdissimo Cos'è? Mouse ho scritto così, però no Ma che? Mouse Ah, facile E invece no Non è certente Cos'è diverso così, raga? Questa può indovinarsi come solo Marci Ma che cos'è? Ma sì, ma non può Ma cos'è? Ma è un campo Ma è un campo da calcio Ma non sembrava un campo Ma sei, dai Va bene Ok, ok È difficilissimo Allora Ok Sì, ma aspetta Allora, questa è una mano Avambraccio No, è una mano È una mano Allora Ah, lo so Bracciale Silenzio Silenzio in aula Silenzio in aula Silenzio in aula Ok Scusate, scusate Ho un attimo di ansia C'è il comeback di Madame Arce, ragazzi 34 punti Dai, bad Cos'è con cinque lettere, dai Questa è sicuramente mucca di nuovo Ma non ci credo Ma ragazzi, io non disegno più Cioè, io veramente non mi sopporto più Nico, ti prego Sto facendo un video Ma ti rendi conto, Nico? Cioè, io non ho parole Io non la disegno questa Cercatela senza che vi dica niente No, no, io adesso faccio la persona veramente cattiva Dai No, aspetta, c'è una finale Non pensavo, scusa Norvegia Arancia, invece, siamo Questo è praticamente treno Ferrovia Ferrovia No Ok Astuccio No, ho capito C'è un'altra lettera Ah Ah Dai, Nico Ma non ho finito Ma non Non ho rotto minuti il video Come fate Scusa, come fate Indovini? Vabbè, tanto Vadovi Vadovi Tasso Ma come tasso? E Cos'è la roba? Ma zio, è facilissimo Sto disegnando troppo bene Lo sto disegnando Eh, oddio Posso ridire? Ok, così forse No, come Mi puoi aiutare Tu, guarda Contestualizziamo Buddy, guarda questo 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 Buddy, tu guarda sotto di te Che cos'è questa cosa qua? Che cos'è? Una pallanea C'è un cavo No, ha un cavo Pensa a Fortnite Cos'è questo? Devi guardare sotto di te Ha sensibilità diverse questa roba qua Pavimento No, questo Ma come? L'altro È un mouse quello Eh, perché era l'altra cosa Poi, Loco, mi dici guarda sotto di te Dai, Loco In un'altra parola lunghissima Cos'è? Trattore stavoce Ragazzi Se mi riesce ancora mucca Io me ne vado No, no No, ve lo giuro Io lo trattore non No Che cos'è? Che cos'è sta roba? Cos'è? Che cos'è? Che altro Ho sbagliato a farlo Ah, prima mi è uscita sta qua Non c'è no No, pensavo fosse prigione Ma che è? È una mano È una mano Ma che cos'è? È un lecca-lecca? È più o meno Non è quello È come un lecca-lecca Oh, c'è difficile Come la faccio? Dai, cos'è? Sarà tipo rana Ok, insomma Non ci credo Tocca a me Tocca a me, raga Siete pronti con mucca? Per favore pronti con mucca, eh? No, non è mucca No, è lunghissimo Questa è la arcobarie No, questa è facile Devo trovare Ok Cos'è? Cos'è? Va, diamo un punto quello! Un attimo, scusami, scusami Ok Cos'è? Ok Un tondo Due tondi Ok, cos'hanno due tondi? In comune Boh, ci ho comprendito Raga, l'ho disegnato da Dio Cioè, se non lo indovinate Veramente Sì! Come ha fatto? Giuff, giuff Non è un treno Vabbè Ci sta, ci sta È disegnato veramente bene Devo essere sincero Era facile No, è disegnato veramente Oh, sto Oh Ehm Mucca Allora, no, raga Adesso lo faccio per bene Con la dovuta calma Ok Ok E Nico non può indovinare Per i prossimi cinque minuti Mi sembra un po' troppo Guarda quanto disegna bene Ok È un lingotto Lingotto Sì, proprio quello Non è un lingotto Cos'è sta cosa? È un Dai, raga Hai disegnato troppo bene Ma cos'è? Ma raga, ma è la cosa più facile del mondo come l'ho disegnata Ho capito Come no? C'è una R S-C-A-R-P-A Scarpa Ah, c'era il trucchetto E cos'è? Scarpo? Ho sbagliato Buddy, dai Ce la puoi fare Ma dovevo scritto prima Scarpa Per due Chi ha vinto? Io Non è uscito ancora il vincitore? Dai, ha vinto Nico Addirittura terzo Comunque Nico Considerate Togliatevi quei 16 punti Arriverebbe a 70 Quindi per me Il vincitore è Loco Lokis Bravo Loco Bravo Bravo No, è server closed Semplicemente Ragazzi Se volete altri video di Scribble Su Minecraft Superiamo I 10.000 mi piace E nei commenti Diteci delle parole Che potremmo aggiungere come tema Non lo so Tipo tutti i mob di Minecraft Scrivetele qua sotto Nei commenti Ciao Ciao